Tennis Builder Tennis Builder del team Lavazza ha giocato l'Auria Versace e Alfredo ha fatto una buona 4 spade double Tennis ci racconta la storia su questa piattaforma Grazie molto per parlare la mia piattaforma Come potete vedere La scuola ha cominciato un spade con Alfredo Passi un no trump E mio partner chiamato due diamanti Dopo passare il primo Alfredo doppi Passi 2 no trump Passi 3 hearts Passi 3 no trump Passi 4 spades E a questo punto mi sento molto bene Mi sono riusciti 10 centi di spade e mi spiego se potrebbero avere 1400 o 1700 o 2000 Non lo so Ma ho doppio E mi sento molto bene E ora viene la scuola E mi considero un po' 10 of spades Si sembra che 10 of spades fa' questa scuola Perchè Domi ha 1 spade e magari 2 o 3 hearts Ma io Levo la Queen di diamanti E ho pensato che sia meglio per ottenere molti di undertricks E infatti Con la Queen di diamanti Levo la Deklare è potuto per giocare questo molto bene E infatti stiamo giocando un buon Deklare che fa' questo Quindi vieni l'Ace di diamanti Crossi l'Ace di club Raffi L'Ace di king L'Ace di king Raffi L'Ace di queen Raffi l'Ace di club E giocando Queen di spade E a questo punto non c'è nulla che posso fare Se Ascolti la Queen di spade che mi porti gioco in gli spade Ma cosa succederebbe Ma 2000 è molto 790 E è stata giocata da Alfredo E non mi piace dire Grazie Grazie.